Nell'episodio precedente Come vedi ci sono una serie di indovinelli Ok, ho trovato un altro blocco di ferro Mitico, ho la chiave numero uno Secondo me devi buttarla qua Oh, si è aperto la porta Dammi a me, dammi a me, tu continui a cercare Non lo so, bella faccia, se fidarmi Come non sai se fidarti? Non è troppo semplice Tieni, fai tu No, no, tu vieni avanti, vieni qua Vieni qua, bella faccia E bentornati ragazzi nella seconda parte Di quanto intelligente è bella faccia Se non avete visto la prima parte il link sarà qua sotto nella descrizione E adesso mio caro pollo Dobbiamo risolvere ancora dei rompicapi per uscire da questo mondo Nell'episodio precedente I due amici avevano superato i primi due livelli Se lo faranno superare il livello verde Ok, grande Bellissimo questa voce fuori campo Allora lui mi dà immediatamente uno slime Che può essere piazzato su lime block Slime, lime, slime, lime Sembra un pokemon Lui invece cosa vuole? Lui mi dà un altro slime Mi sa che commerciano tutti gli slime, sai? Sì Io intanto Oh Slime, slime Qua c'è una cesta nascosta L'ho vista Time slime, time slime Aspetta Oh, ecco lo sapevo Ecco lo sapevo Io ho giocato un miliardo di mappe Conosco tutti i trucchetti E i segreti dei creatori delle mappe Ce ne sono due di ceste Mi faccio perdonare, guarda qua Ok, cosa hai trovato? Vediamo Eh, ho capito Come faccio a prenderlo? C'è il vetro Eh, lo so Eh, dobbiamo trovare il modo di rompere il vetro secondo me Ah, aspetta È questo? Sì Grande Allora, fammi un attimo ragionare Time slime, time slime Mi stai confondendo Servono i blocchi di smeraldo Poi questi invece possono essere piazzati sulla terra C'è della terra? Terra è qua Io comunque sono la pala, eh Provo a scavare Eh, non me lo vuoi dire? Perché c'è la pala? E che cavolo Eh, che cosa può scavare? C'è scritto Oh, aspetta C'ho il colorante Devo tornare indietro La sabbia Ok, c'ho la redstone Ora mi dovrebbe dare un altro blocco di smeraldo Sei pronto? Bravo Spatapum Spatapimpa pum Spatapum Oh, aspetta Un'idea C'ho quattro di questi Sentiamo Guarda Io solo la pala Li devo mettere nei vasetti È vero Però qual è l'ordine? Dammene due Aspetta Non c'è un ordine Sicuro? L'ordine reale, dai Boh, mettiamoli a caso allora Tanto in caso si possono togliere poi No, secondo me c'è un ordine Ci sarà tipo un cartello che te lo spiega Ma che cartello? Oh! Ti ha dato qualcosa? È andato Che cosa? È andato Che cosa? Non mi ha dato niente a me E allora Ceste, guarda Ah, sono spuntate le nuove ceste Con le cesoie Ok, allora aspetta Questa La possiamo commerciare con il signore No, con quest'altra signore Signore, signore Signore, mi servirebbe uno slime Grazie mille Allora, ci servono degli altri slime Almeno altri due E nel frattempo Queste possono rompere Indovina Cosa possono rompere queste? Vetro Esatto Meno male che sei intelligente Ogni tanto Mamma, mamma Scalette Aspetta che c'è un'altra Alette di pollo Altre scale Wow, comunque bella faccia Io e te ormai abbiamo carburato I nostri cervelli Sono diventati Un tutt'uno Io voglio questa cesta Ecco sì Però Io voglio questa No, ci sono pure dei cosi Degli shulker Dei cosi Dei cosi Vai lassù Fai un salto Ho capito Devo buttarmi sullo slime Poi sull'altro slime E così via E così via E per arrivare là Sì, però dobbiamo prendere questa cesta Ok, aspetta L'ho presa Due candele Quindi adesso abbiamo abbastanza slime Direi di sì Slime, 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 slime Devo andare da Claudio E lui, Claudio? No, lui è Gino Claudio, lui è Gino Ok, Gino Non confonderli che si offendano Hai ragione, lo so L'ultima volta si sono arrabbiati Non mi hanno parlato per una settimana No! Cosa? Che Ma che troll Cosa? Non lo posso mettere qua questo Guardami Guardami Ok Wow Riprovo Aspetta, aspetta Non posso piazzarlo qua Perché qua c'è un blocco Sì, c'è un blocco tipo blu E quindi dove cavolo devo metterlo? Boing Lime wool Nella lana di lime Dov'è la lana di lime? Nella lana di lime È lì dove eri prima No, quella non è di lime Quella è indietro Quella è blu Dici che devo tornare indietro? A quest'altro livello Marcesi, saremmo accorti se c'era della lana verde, no? Eh, non lo so Eh, no, neanche io lo so Io sto facendo il parkour Ok Aspetta, aspetta, ho capito Bella faccia, non sei buono Non sei capace a farlo Lo so, ma basta andare là Eh, infatti dobbiamo semplicemente fare Boing 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 Grande L'hai preso? Grande C'era qualcos'altro? No No, veramente? Non c'era niente Eh, ok, allora Facciamo così Intanto mettiamo questi Uno, due, tre Ah, io me ne resto qua dentro Ne manca solo uno Come cavolo fai, scusa? Uno Eh, come facciamo? Perché io ho lo slime Ma non lo posso posizionare Perché non lo posso posizionare? Perché Non lo faccio Stupido Cosa? Eh? Questo, secondo me è questo il blocco strano Tu hai la pala Cosa può rompere la pala? La sabbia La sabbia C'è della sabbia qua? Non mi sembra Ma quella è la pala dell'altro livello Ma sei stupido È la pala dell'altro livello Eh sì, del livello di prima Ho solo quella Dobbiamo arrivare là Lassù, guarda No, 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 secondo me bisogna tornare indietro Bella faccia Come sempre Perché nello scorso livello Ti ricordi che eravamo tornati indietro? Sì, non puoi scappare dal tuo passato Eccolo Boom Un genio E quindi? E quindi ora vedi? No Eh sì No E invece sì No E invece sì Non sono capace però Se ce la faccio prima io No, 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 aspetta Sono un parmigiano? È un parmigiano È un parmigiano E tu sei un parmigiano in sconto Un parmigiano Wow, grande Ce l'hai fa Allora, è un po' più difficile di quel che credessi È un parmigiano Dai, 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 dai Oh, boing Boing Basta Mi sono fatto Ok Ora ci riusciamo Pronto? Guarda Vai Boom Ah, ma allora Vuoi delle lezioni? Ah, ma allora Ah, ma allora Ah, ma leo si Aspetta, guarda Am, ma leo si impallao È di qua che si fa Badam Siamo arrugginiti forse Ma però non ci arrivo Bella faccia Il giorno in cui tu riuscirai a fare un parkour prima di me Diventerò papa Beh, l'ho fatto altre volte Quindi è meglio che prendi Che cosa? I voti I voti Quasi Hai paura Dai, dai, dai Ce la facciamo Ci dobbiamo riuscire Guarda Oh, godine Godine Io Oh Oh Ci stai andando veloce Quasi, eh Neanche vicino Veloce Eh, volevo dire vicino Ci stai andando veloce Kendall, ci stai andando veloce Non ci posso cre... No, diventerò papa Oh mio Dio Avemus Papa Kendall Ok, prendi la cesta che ti dà Grande Abbiamo completato il livello Passa Vai, vai, vai a prendere il cappotto da papa Come il cappotto? Ma il papa non ha il cappotto La cravatta La cravatta Ok, dovrebbe darci la chiave Quindi abbiamo capito che ogni livello che completiamo Ce n'è uno dove bisogna tornare indietro Abbiamo capito che ti devi far papa Altro che... Andiamo avanti No Bello Mi stai prendendo in giro? No, questo mi fa uscire di testa No, bella faccia Io mi sento male soltanto a vederlo No, questo mi fa uscire di testa Cos'è? Bisogna proprio... Nooo Ma che sono scemi Nooo Non ci credo Creatore della mappa Visto che sei italiano Se stai guardando questo video Nooo Ti odiamo Creatore della mappa Nooo Bella faccia È arrivato il momento di sfruttare una tua abilità L'apnea No Un'altra L'annegamento No Un'altra ancora La mia abilità è il cervello La creative Bella faccia Usa la creative Purtroppo Ho trovato la cesta Usare la creative Come non si può? Sì vabbè ok Nelle regole c'è scritto non usare la creative Ma tu Cioè usala Non posso Ma che vuol dire non puoi? È bandita Come è bandita? È bandita Vedi? Non posso andare in creative Perché? È bandita la creative Non ci credo L'ha bloccata? L'ha bloccata E quindi tu ci avevi già provato No Ma l'hai detto adesso Perché Ah hai detto che Ah 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 Sentiamo la scusa dai Ah hai detto Non sto spogando però No neanch'io Meno male Perché la messa Ha messo questa cosa perché La messa Io sono diventato il papa E devo andare a messa La messa Devi andare a messa Sapeva che tu avresti usato la creative Quindi ha fatto così Non ci credo per la faccia Non mi sono Me ne sono accorto solo adesso Cosa? Ci sono più piani Devi salire anche in alto Ma va Io lo sapevo Oh mamma No no È impossibile No no Allora È impossibilissimo Ricordati che tutto è possibile Nella vita tutto Se lo vuoi lo puoi È possimpibile Se lo vuoi Lo puoi Bene E lo vuoi E lo uovo E lo uovo Ma tu sei sopra Eh Sao Ok devi trovare i cosi I cetrioli di mare Ho trovato un cetriolo Ne ho trovato uno Bene bene Trovane altri Bene 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 Ok grazie Questo livello è veramente fastidioso Quindi taglialo tutto Grazie eh Ci resta l'ultimo cetriolo di mare Bella faccia L'ultimo Allora aspetta Io intanto vado a commerciare questo Che ci serve Tu nel frattempo trova l'ultimo cetriolo Fai come Spongebob Sembra un film L'ultimo cetriolo L'ultimo dei cetrioli L'ultimo dei cetrioli Grazie Grazie Mi dia per favore il blocco Boom Ok Ora metto la redstone Te l'ho detto E come dicevo io Bisogna proprio completare tutto il serpentino Ok Il serpentino Ce la fai a trovare l'ultimo? Eh insomma Io credo in te bella faccia Ve li ho trovati tutti però Sono stato bravo Ah si è vero è vero Bravissimo Dai ci vediamo dal villager Ci vediamo dai cetrioli Oh mio dio Oh mio dio Ce l'abbiamo fatto È un miraggio Ok Dammi subito i lapislazuli che ti commercia Uno Due Tre Quattro Cinque Tieni qua Grande dai Sblocchiamo sta porta Da dove si scende ora? Oh mamma No dobbiamo rifarlo tutto da capo Dobbiamo rifarlo tutto Kendall Bene Facciamo così Tu vai direttamente alla porta Quella Che si apre E io invece vado a piazzare i lapislazuli Va bene? Ok Dai dobbiamo solo scendere adesso È facile no? Sì Come no? Comunque ragazzi Vi dico soltanto che ci abbiamo messo più di 20 minuti Solo per questo Solo per questo livello Bello dire Eh purtroppo è così Guarda guarda È una passeggiata adesso Vedi? Ah sì come no Lo potrei fare ad occhi chiusi Sbatti la testa tu No guarda Boom Indovina dove sono? Non è assurdo che è così semplice adesso Adesso è semplicissimo A tornare giù non ci vuole nulla Tornare giù è facile Ok Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Vediamo Data Bene Ho la chiave Ok Adesso la via io la conosco Devi seguirmi Devi venire di qua E andiamo finalmente alla porta Comunque questo livello Credo che questo sia il livello più difficile Che io abbia mai fatto In tutta la mia vita di Minecraft Sì Ok dai Dai Sei pronto? Vai Ci sei? Voilà Non ci credo Livello superato No No Io me ne vado No non è possibile Un altro labirinto No 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 ciao Ragazzi Dovete lasciare come minimo 25.000 Mi piace per farci fare un altro livello di questi Dal vostro Kendall e per la faccia è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao Ciao